Avete un'impronta internazionale, vi muovete benissimo da un paese all'altro, che ruolo gioca questa internazionalità oppure l'appartenenza? Io penso che più che il fatto che sia di origini danesi, penso che il valore aggiunto che dà Vic al gruppo è proprio la sua attitudine, l'attenzione che ha nei confronti un po' di tutto quello che circonda la musica e poi ovviamente anche nella musica tutta la passione che ci mette, che poi è quello che ci accomuna tutti quanti, però è una ragazza molto forte. Lui è Daviano. No, no, è vero, lo penso davvero Giulia. La prendo anche in giro, giusto? È vero, è vero. Siete un gruppo molto affiatato e dopo di là siete dei ragazzi molto educati. Grazie. Grazie a tutti.